La scena di furti e rapine in città Il centro è una nomade ha derubato una turista nel centro storico Intanto è arrivata la conferma della firma dell'ordinanza per lo sgombero del campo Rom La condizione generale del decoro del territorio è vergognosa In situazioni simili e inverosimili è parlare di turisme attrattive Grave responsabilità della provincia di Sassari Intanto ad Alghero da oggi sono in azione le squadre del verde Segnalazioni dai commercianti sul mancato ritiro del cartone Interessante incontro lunedì sera presso la Misericordia Al centro la proposta di realizzare un parco acquatico ad Alghero Impresa che potrebbe avere degli innegabili benefici all'economia locale Sentiamo uno degli organizzatori Un saluto a tutti voi ben ritrovati con la quotidiana informazione su CatalanTV Apriamo l'edizione di oggi del nostro telegiornale Con la cronaca continuano gli episodi legati a furti e rapine Nelle ultime ore le forze dell'ordine hanno arrestato un algherese Per aver sottratto dei soldi ad una farmacia Mentre una nomade ha derubato una turista nel centro storico Intanto è arrivata la conferma della firma dell'ordinanza per lo sgombero del campo Rom Ma sentiamo i servizi La polizia municipale e la squadra volante del commissariato di Alghero Hanno denunciato alla procura della Repubblica di Sassero Una donna 32enne di etnia Rom Responsabile del reato di furto aggravato Ai danni di una turista tedesca La vittima è stata avvicinata da una nomade Con in braccio un bimbo all'ingresso della cattedrale di Santa Maria Con la mano nascosta dal corpo del neonato Ha prelevato il portafogli dalla borsa della cittadina tedesca Che si è resa conto dell'accaduto subito dopo L'intervento della polizia municipale Con il successivo ausilio della squadra volante Hanno consentito di rintracciare la nomade All'interno di una cabina telefonica Presso la quale è stato rivenuto il portafogli sottratto alla vittima Riconosciuta dalla cittadina tedesca La nomade è stata denunciata alla procura della Repubblica E il portafogli è stato restituito alla proprietaria Non si placa la scia di rapine e furti ad Alghero Episodi che stanno colpendo diversi esercizi commerciali Le cronache di questi giorni hanno riportato di rapine a centri scommessi e a una pizzeria Ieri invece c'è stato un furto nella farmacia Mulas di Via Domminzoni Nel quartiere della Pietraia In base al racconto dei militari Un uomo algherese di 38 anni è entrato nell'esercizio E dopo aver acquistato della merce Invece di andare via Ha rapidamente aperto il cassetto di uno dei registratori di cassa Posto vicino proprio alla porta di ingresso e uscita È sottratto 250 euro ed è scappato via L'allarme alle forze dell'ordine è scattato immediatamente I carabinieri di Via Domminzoni, i comandanti del tenente Guerrini Hanno impiegato poco a risalire responsabile Questo grazie anche alle telecamere a circuito chiuso presenti nella farmacia L'uomo è stato fermato e arrestato per il reato di furto Oggi è attesa la convalida Intanto, come detto, è arrivata dal Comune la conferma della firma dell'ordinanza Per lo sgombero del campo Rom da parte del sindaco Lubrano Il documento obbliga la popolazione Rom ad abbandonare l'area dell'Arenosu entro 90 giorni L'ordinanza non indica il nuovo campo sosta Che probabilmente sarà individuato da un'altra ordinanza sindacale La condizione generale del decoro del territorio è vergognosa In situazioni simili è inverosimile Parlare dei turismi è attrattive Gravi irresponsabilità della provincia di Sassari Intanto ad Alghero da oggi sono in azione le squadre del Verde È incomprensibile come possa un territorio puntare quasi tutto sulla trazione turistica Ma poi venga trascurato l'aspetto più importante Il decoro E non stiamo parlando solo di Alghero Basta farsi un giro lungo la strada dei due mari Fino alla rotatoria in direzione Porto Torres Oppure imboccare la panoramica perbosa Una situazione indecente Su cui dovrebbe intervenire già da tempo La provincia di Sassari Erbace alte quasi due metri Che delimitano le arterie stradali Creando dei veri disagi Alla visibilità per gli automobilisti Ma il vero problema Che qualcuno sta sottovalutando È quello sanitario Sono sempre più numerose le persone Che soffrono di patologie Legate alle allergie E trovarsi circondati Da paritarie Forassacchi e graminace Aggrava in maniera enorme i problemi di salute Ad Alghero le segnalazioni non si contano più Fa particolare impressione L'ingresso in città nella zona di Galboneddu Una cartolina pessima per chi giunge nel centro catalano E poi anche il lungo tratto Che conduce verso Monte Agnese Qui insistono diverse abitazioni e attività Negli scorsi giorni Si è verificato un'invasione di zecche Altro problema segnalato anche in altre parti della città La mentele dalla Taulera Fino anche alla via Liguria Proprio davanti al polissoccorso Nei terreni oltre la strada Le erbace sono diventate un qualcosa di indicibile Stesso discorso per i terreni di Maria Pia Colpisce in modo particolare La condizione della piscina comunale Luogo frequentato anche da molti bambini Così come i campi sportivi Eppure la condizione è pessima Ribadiamo che già solo per il decoro Si dovrebbero attuare degli interventi mirati E per tempo Non dunque attendere il caldo E le concause che ne derivano A partire dalla diffusione dei parassiti A ciò, come detto, si aggiunge la questione sanitaria Ad Alghero ritardi sono causati Dall'avvio dei progetti per la cura del verde Finalmente da ieri sono attive alcune squadre Con in totale 24 unità Viste le diffuse emergenze Sarà difficile intervenire subito in tutta la città Ma entro qualche giorno La situazione dovrebbe iniziare a migliorare Restando sempre sull'argomento C'è da segnalare che da ieri Hanno cominciato ad operare le squadre Dell'assessorato alla manutenzione Che si devono occupare della pulizia E riqualificazione degli spazi verdi E zone degradate della città 24 uomini impiegati Stamattina intervento tra gli altri Al forte della Madelenetta Da ieri sono a lavoro Le squadre messe in campo Dall'amministrazione Per la pulizia e riqualificazione Di spazi verdi della città E per il risanamento ambientale Di zone degradate Sotto il coordinamento Dell'assessorato alle manutenzioni 24 uomini sono impegnati Nelle varie mansioni Tra giardinieri e operai In diverse zone di Alghero Attualmente il lavoro è concentrato Nel centro storico In particolare nel forte della Madelenetta Dove si sta bonificando l'area ripulendo La derbaccia di Fiutivari Nel quartiere del Carmine A Fertilia Sul lungomare Barcellona Le operazioni di pulizia Si protrarranno quotidianamente Nelle diverse zone cittadine L'intervento fa parte Delle iniziative Rientranti nei progetti occupazione Legge 6 del 2012 Per la cui attuazione Si stanno mettendo in campo 613.526 euro Per il lavoro Queste immagini Girate stamattina Mostrano le squadre A lavoro proprio Nel forte della Madelenetta Un luogo di pregio Che purtroppo risulta Assai degradato E che ha necessità Di una riqualifica Vista anche la posizione E le potenzialità Di questo luogo Incastonato tra le mura antiche La politica Questa mattina Conferenza stampa Dell'UPC Unione Popolare Cristiana Che ha comunicato L'ingresso nel partito Del consigliere comunale Giovanni Serra Conferma la sua presenza Nella lista Lubrano E il sostegno Alla maggioranza Sentiamo Giovanni Serra Consigliere comunale Della lista Lubrano Che aderisce Oggi All'UPC Il perché Di questa scelta Allora Io sono stato eletto Con la lista Lubrano Ho deciso Da oggi Di aderire All'UPC Per proseguire Il mio percorso politico All'interno Di un partito Adesso Grazie all'onorevole Antonio Satta Che sarà qui A momenti Faccio L'adesione All'UPC Seguo Da tempo I lavori Che L'onorevole Svolge Sta vicino Alle famiglie Bisognosi Insomma Mi piace molto Il progetto Dell'Unione Popolare Cristiana E da oggi Ho deciso Di aderire Al partito Resterà in maggioranza? Resterò in maggioranza Non 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 uscirò Dalla lista Lubrano Rimarrò sempre All'interno Della lista Lubrano Sicuramente Questo darà Un punto di forza Più sicurezza All'aggiunta Che Sicuramente Svolgerà meglio I lavori All'interno Nel proseguo Della consigliatura Come giudica Lei Il lavoro Fatto fino adesso Dall'amministrazione? Eh Insomma Siamo un po' In difficoltà Perché Sappiamo benissimo Il caos I problemi Che abbiamo Eredittato Dalla vecchia Amministrazione Ora Ci stiamo rimboccando Le maniche Con tutta la maggioranza E Cerchiamo di risolvere Come abbiamo visto Anche oggi Sul campo Roma Ma comunque Avremo occasione Di approfondire Il discorso In altra sede Adesso Cerchiamo di Fare del nostro meglio Al Ghero Partecipa Le cartoniadi Il campionato Di raccolta Differenziata Di carte e cartone Organizzato Dalla Comieco Consorzio nazionale Recupero e Reciclo Imballaggi In collaborazione Con la regione Sardegna L'iniziativa Delle cartoniadi Attuata con la formula Della gara L'obiettivo di sensibilizzare I cittadini Sull'importanza Di effettuare Una corretta raccolta Differenziata Sui benefici ambientali Ed economici Che ne derivano Per tutta la collettività Il torneo Iniziato ieri Prevede che Alla chiusura prevista Il 31 maggio Venga scelto il comune Più virtuoso Sulla base Della maggiore quantità Di carte e cartone Raccolta Il comune Si dimostrerà Più virtuoso Anche in base Alla qualità Cioè il minor numero Di frazioni O impurità raccolte Avrà in premio Una somma di 30.000 euro Il secondo E il terzo classificato Vinceranno Rispettivamente 15.000 5.000 euro I primi Saranno messi a disposizione Dalla regione Sardegna Avrà una destinazione Specifica Sia in realizzazione Di opere Che in servizi Di pubblico utilità Nel caso In cui la nostra città Dovesse vincere Cosa che mi auguro Spiega l'assessore All'ambiente Elena Riva I denari ottenuti Saranno utilizzati Per l'acquisto Di un mezzo ecologico È necessario quindi Che noi tutti Si produca uno sforzo Ulteriore Per la raccolta Di carte e cartone Per dimostrare Un incremento Rispetto al bimestre Gennaio-febbraio 2013 E superare Gli altri comuni L'importante È comunque Che la buona pratica Venga mantenuta Inalterata Anche nei mesi Successivi del 2013 Le città Che partecipano Alla gara di raccolta Che sarà valutata Percentualmente Rispetto agli abitanti Sono Alghero Cagliari Carbonia Lanusei Olbio Oristano Sassari Tempio E Villa Cidro Rispetto proprio Alla raccolta Della carta e del cartone Ci sono però Da segnalare Le segnalazioni Scusando il giro Di parole Di diversi commercianti Algheresi Soprattutto del centro storico In particolare Delle vie Largo San Francesco Minerve E altre strade Dove ci è stata Segnalata La presenza Del cartone Non ritirato Alcuni parlano Anche di parecchi giorni Di ritardo Per quanto concerne Il servizio di raccolta Che dà vita Ad un cumulo Di scatole Proprio di fronte All'ingressi Delle attività Un problema Segnalato più volte Che va ad aggravare Ancora le lacune Già presenti Nel settore Dei rifiuti Ed ora diamo La linea alla regia Per la pubblicità Tra poco Per la pubblicità